Benvenuti su Meteo Giulianci, il tempo previsto per mercoledì. Ebbene, l'anticiclone nord-africano ha lasciato gran parte del nord, ma insiste ancora su Emilia e al centro-sud, in particolare a caldo ancora roventi su Emilia, Toscana, Umbria e Lazio e su Puglia, Lucania, Calabria Ionica e isole maggiori. Per quanto riguarda i fenomeni vi saranno ancora, come potete vedere, dei temporali pomerigiani sulle Alpi. Bene, termino qui, un caro saluto ancora da Mario Giuliaci.